È un importante appuntamento con il centro della bellezza. Abbiamo discusso con il carri di quanto la bellezza sia un valore anche economico e di quanto la bellezza venga stata guardata. In piccoli comuni questo valore è presente ma rappresentiamo la bellezza d'Italia, rappresentiamo questa parte di paese che rischia di scomparire. Rappresentiamo quell'Italia semplice che non rifiuta la modernità, ma vede nella tradizione, è bello la possibilità di futuro. Dobbiamo coniugare bellezza, modernità ma anche tradizione. Il piccolo volo racchiude questa possibilità. Nel futuro questi valori saranno fondamentali per ridare slagio all'Italia. Nelle piccole comunità tanta Italia, tanta bella Italia, sempre con l'Italia.